Una violenta esplosione, talmente forte da svegliare i residenti dell'intero rione, macchia gialle non solo, perché il boato, nel cuore della notte, intorno alle 3.30, è stato udito anche in altre zone di Foggia. La deflagrazione ha completamente sventrato lo sportello Bancomat della Banca Popolare di Novara in via Padre da Olivadi. L'ordigno, piazzato ai piedi dell'istituto di credito esploso nell'esplosione, ha creato danni ingenti alla struttura con lo sportello completamente sventrato, così come mostrano le immagini girate. Proprio questa mattina. In azione, un gruppo di banditi, poi fuggiti con i contanti, ancora da quantificare precisamente. L'esplosione è avvenuta intorno alle 3.30, come detto, svegliando i residenti. Sul posto, vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e agenti della Polizia di Stato che indagano sull'accaduto, cercando un valido aiuto nella visione delle immagini della videosorveglianza. Grazie. 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 Grazie.